La 14esima conferenza nazionale di statistica è l'occasione per fare il punto sulle lezioni apprese durante la pandemia. In particolare si affrontano temi quali l'introduzione dello smart working nella pubblica amministrazione, come questo avrà influenza sulla nuova visione e organizzazione del lavoro nella PA. Si parlerà anche di come l'Istat ha dovuto riorganizzare l'attività di raccolta dati, introducendo nuove tecniche e la digitalizzazione proprio a causa della pandemia e anche come la pandemia è stata deflagrante per l'attività di comunicazione statistica, poiché è stata un volano per la disinformazione, soprattutto sui social media. In ultimo si affronta un passaggio verso il futuro, in particolare riguardante le innovazioni tecnologiche a supporto della creazione del polo strategico nazionale. Quindi in questo webinar esperti dell'Istat, del Politecnico di Milano e della Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri si alterneranno per portare le loro testimonianze e fare un quadro di quello che è stato il recente passato con la pandemia e le lezioni che da questa pandemia si sono apprese per la costruzione di un nuovo futuro. Grazie a tutti.